Sì, non c'è la nuova, che non c'è la nuova Corre il tail Lo mantiene l'alberato, però Un destino Un destino E questa è la zona che vediamo noi nella tribuna lì Sì Vai ora, putto Ma che sèsa Ecco, grazie ma sei un mito ma che pilota sei era incollata la strada che cerco di spogarmi perché quando durante il giorno vedo tutte queste che giro ciao buonasera clienti amici sì ho fatto con amici ma mi hanno bloccato perché adesso furgirà hockmann con la moto un attore nostro davide silvestri vediamo con loro se magari quando ha finito facciamo tra mezz'ora però se ne va adesso ne parliamo con elio guarda domandilo tu a elios che è il più contento vieni vieni te lo faccio vedere fa 100 vetrine branco che stiamo a scherzando dai lui questa porra a casa franco franco grazie mille di nada ciao ciao un po' a finezza piastra bello piastra bello piastra si è bello è bello ci lasciamo via di 100 vetrine ahahah 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 prima c'era la cascata dei maroni e tutti quelli del porto in casa che voleva entrare i canicini i canicini i canicini ma dopo puoi madonna no a quanto era la ma ce l'ho forte ma non si va cazzo è incollata adesso io non sono queste cose beh ma sei stata normale o quale voi no no ma si sente si sta più da bene vieni 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 Lui era lì che cercava di... e ti messe la cintura e non riuscì E te vieni proprio in vista Sì, io ho sentito ammarci o stanno per la sottatura Poi indiesi... Però mi dispiace perchè ancora non c'era il colto Dai! Com'è la cazzola quella delle Iene? Dan 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 Abbiamo tutto il video no? Ho fatto una mini ripresina e io... La mia umbile... Se mi lasciare le mele poi... La mia umbile! Ve la spero